Ai rappresentanti pontifici incontrati in Vaticano, Papa Francesco ha consegnato alcuni importanti insegnamenti da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni senza mai dimenticare il loro compito principale, quello di essere umili inviati del Papa per servire la Chiesa con sacrificio, competenza e carità. Senza l'umiltà, ribadito il pontefice, nessun servizio è possibile o fecondo, ma serve anche l'astuzia e la prudenza del servo saggio per riconoscere i tanti lupi che oggi confondono il gregge e lo distruggono. L'incomprensione, l'ostilità, la malvagità, la persecuzione come quella subita dai cristiani in Medio Oriente, assediati e uccisi con il silenzio complice di tanti. Mai piangersi addosso, mai fare le vittime, piuttosto servire nella gioia, vigilari affinché le enunziature siano la casa del Papa e non diventino mai rifugio degli amici degli amici. E ancora, il Papa ha chiesto ai rappresentanti pontifici di fuggire dai pettegoli e dagli arrivisti, impegnandosi nel grande compito di garantire la libertà di fronte ad ogni forma di potere che voglia far tacere la verità. Il Pontefice ha poi invitato i nunzi ad accompagnare le chiese locali e i popoli con il cuore dei pastori in quanto testimoni della risorto e non portatori di curriculum. Per accompagnare però, ha aggiunto, bisogna muoversi, non bastano vaghe priorità e teorici programmi pastorali, non basta la carta delle emissive, piuttosto ha detto bisogna puntare sulla concretezza della presenza, della compagnia e della vicinanza. Poi l'urgenza di rispondere alle tante sfide contemporanee con la cifra distintiva della missione diplomatica e cioè la misericordia verso un mondo che il Papa ha definito ferito e frantumato ma mai irrecuperabile, ma anche con la gioia del Vangelo da opporre ad ogni vento di odio e di terrore. Noi non siamo commessi della paura e della notte, ma custodi dell'alba e della luce del risorto. Il mondo ha tanta paura, tanta paura e la diffonde. Spesso fa di essa la chiave di lettura della storia e non di rado la adotta come strategia per costruire un mondo poggiato su muri e fossati. Possiamo anche comprendere la ragione della paura, ma non possiamo abbracciarla, perché Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Atingete da tale spirito e andate, aprite porte, costruite ponti, testete legami, intrattenete amicizie, promuovete unità. Siate uomini di preghiera, non trascuratela mai. Soprattutto l'adorazione silenziosa, vera sorgente di tutto il vostro operato. La paura abita sempre nell'oscurità del passato, ma ha una debolezza e provvisoria.